Incredibile vedere un aspirapolvere così piccolo ma al contempo così potente. Dentro questo scricciolo ci sono ben 4000 Pascal di potenza di aspirazione. Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a parlare di questo Lefant F1, un prodotto in superanteprima a partire dal 30 settembre. Infatti sarà possibile preordinarlo tramite meccanismo di crowdfunding e pagarlo fino al 30% di sconto sul sito Best and First. Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Si tratta di una novità parecchio interessante che ho deciso di portarvi sul canale proprio perché ha una serie di tecnologie che mi sono piaciute tantissimo. Ovviamente si tratta ancora di un dispositivo che è alla prima generazione ma che ha tante potenzialità e poi soprattutto guardate quanto è piccolo. E' proprio adattissimo ad essere utilizzato in ambienti un po' più piccoli. Per esempio bilocali e trilocali decisamente diffusi nelle grandi città. Prima di continuare però e scoprire come si comporta questo Lefant F1 e quali sono queste peculiarità frizzanti. Beh vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche cliccando sul pulsante rosso qui sotto. E' l'unico vero modo che avete per supportarmi in modo che io possa portarvi prodotti sempre più interessanti. Detto questo vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte. Il link lo trovate al solito qui sotto nella descrizione. Guardate quanto è piccolo. Partiamo subito dagli ingombri e in particolar modo dallo spessore. Spesso infatti sono solamente 69 mm. 6,9 cm e sopra è completamente piatto. Caratteristica questa che gli permette di andare ad infilarsi davvero sotto ogni suppellettile. Sanitari sospesi, mobili, divani. Non c'è assolutamente alcun mobile che possa impensierirlo. E questo è sicuramente un grande vantaggio in quanto il Lefant F1 riesce così a pulire in maniera profonda ovunque. All'interno della confezione troviamo ovviamente il robot. Una piccolissima base di ricarica con un led di stato. In questo caso qui ci sono invece dei panni igienizzanti. Soluzione secondo me più intelligente anche perché vi ho sempre detto che i lavapovimenti passivi, tra virgolette, non sono granché utili. Vanno bene per 10-15 minuti per aree molto piccole, per singole stanze, ma poi si sporcano e spargono questo sporco un po' ovunque. In questo caso invece abbiamo dei panni igienizzanti che sono già imbevuti di una sostanza che permette di eliminare un po' di batteri che si depositano sulla superficie e quindi di igienizzare per l'appunto le superfici. Ce ne sono ben 10 fornite nella confezione. C'è anche un nastro magnetico perché in questo caso la mappatura non è di tipo avanzato, quindi non possiamo andare a gestire le varie aree sulla mappa, ma tramite il nastro magnetico possiamo isolare determinate aree a casa nostra mettendolo semplicemente sul pavimento in cui il robot non andrà. È davvero molto piccolo, dopodiché ci sono 4 spazzole laterali, 2 vanno montate, altre 2 sono per un'eventuale sostituzione dopo che queste si usurano e anche un filtro in più per il serbatoio. La parte inferiore è davvero carina e discreta, le ruote hanno un'escursione che gli permettono di superare ostacoli fino a 2 cm e dopodiché la prima grossa novità che vediamo rispetto ad altri aspirapolveri robot è che non c'è una spazzola centrale. Ora questo è sia un pregio che un difetto, perché è un difetto? Beh perché sicuramente avere una spazzola centrale permette di raccogliere detriti più grossi in maniera più efficace, la spazzola centrale appunto ruotando con le sue setole permette di direzionare in maniera più efficace lo sporco verso il condotto di aspirazione. Ha però un contro questa cosa, ovvero che ruotando eventuali capelli lunghi o pelli di animale vanno ad incastrarsi e quindi rende necessaria la pulizia. Qui abbiamo un'aspirazione molto potente, tra le più potenti sul mercato di aspirapolveri robot ovvero 4000 pascal, di solito gli aspirapolveri robot compreso l'Ecovax T9 Plus che abbiamo recensito si fermano a 3000-3500 pascal nel migliore dei casi, qui abbiamo 1000 pascal in più ma non c'è la spazzola. Questo permette appunto di essere molto efficace con capelli e pelli di animale ma nel caso avessimo dei detriti un po' più grossi potrebbe fare qualche fatica in più. Penso a un chicco di riso, a dei granelli di cereale sbriciolato, a delle briciole di pane un po' più grosse del normale, beh allora in questo caso questo lefante F1 potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto ad altre alternative. Però per quanto riguarda appunto chi ha cani e gatti, beh può dormire sonni tranquilli perché non dovrà andare a districare tutti i loro peli dalla spazzola centrale. Stessa cosa potrebbe dirsi anche per le spazzole laterali che hanno una base bella cicciotta e quindi il pelo non va ad incastrarsi qui ma viene adeguatamente direzionato verso il condotto di aspirazione. Nella parte superiore invece come potete vedere ha questa trama simile Star Wars che ricorda un po' un cielo stellato e poi il serbatoio che è semi trasparente. Ovviamente adesso potreste non vederlo molto bene però vi posso assicurare che è trasparente e si toglie semplicemente tirando questa linguetta metallica verso l'alto. Un serbatoio che nonostante le dimensioni compatte dell'aspirapolvere ha una capienza di 600 ml quindi consente di aspirare tantissimo sporco ma soprattutto vedete quando si riempie. Quindi non dovete andare a tentativi a vedere quanto sia pieno ma lo vedete direttamente osservando il robot. Due pulsanti nella parte superiore che consentono anche senza applicazione di andare ad avviare la pulizia e gestire la potenza di aspirazione e poi nella parte centrale come potete vedere non c'è alcun bumper. Questo perché questo aspirapolvere non si basa su una tecnologia lidar quindi con torrette che ne vanno ad aumentare gli ingombri oppure con un bumper che va ad urtare contro eventuali mobili ma ha una tecnologia particolare che si chiama Free Move 3.0. Praticamente spara dei piccoli laser attorno a sé e non ha la necessità di andare a urtare gli ostacoli ma li riconosce adeguatamente in anticipo. Non solo questa Free Move 3.0 gli permette appunto di mappare l'area internamente quindi lui non passa più volte nella stessa zona e riesce a coprire tutta la superficie. In realtà poi monitorando all'app potrebbero restare alcune aree non coperte durante la pulizia ma ovviamente stiamo parlando anche di un robot che costa all'incirca 200-250 dollari quindi un prezzo decisamente accessibile con delle caratteristiche uniche nel segmento. Rimane comunque una bandella in silicone che nel caso ci siano ostacoli un po' più sottili o leggeri non si vadano a rovinare con l'urto dell'aspirapolvere robot. Nella parte posteriore invece abbiamo i due sfoghi per l'aria dell'aspirazione dotate appunto di filtro EPA che racchiude tutte le particelle e non le disperde nell'ambiente. Come potete vedere è davvero piccolo e compatto come funziona l'applicazione. L'applicazione è davvero molto basilare e appunto permette di monitorare il robot anche a distanza e vedere quali aree sta coprendo. È la classica applicazione di tanti robot di terze parti ovvero Tuya. È fatta da Tuya App ed è molto intuitiva anche se alcune traduzioni sono abbastanza maccheroniche. Da lì possiamo decidere la potenza di aspirazione e altri parametri come per esempio il collegamento del robot agli assistenti vocali di Google e Amazon oppure la programmazione del robot stesso. Oltre a poter monitorare lo stato di usura dei componenti soggetti di usura come le spazzole laterali e soprattutto poterlo controllare anche da remote. Questa è una cosa molto utile perché magari volete trovare a casa pulito perché avete ospiti mentre uscite da lavoro fate avviare il robot e lui inizia la pulizia. Per quanto riguarda le prestazioni all'interno abbiamo una batteria da ben 3600 mAh. Ci sono tre livelli di potenza al minimo e molto silenzioso siamo sul livello di circa 60 decibel mentre al massimo diventa davvero potente perché va a sfruttare tutti i 4000 pascal di potenza ma anche più rumoroso siamo all'incirca sui 70 decibel di rumore prodotto. Detto questo l'autonomia è di circa 200 minuti. Una cosa che ho notato purtroppo è che nonostante ci sia una mappatura interna il robot non smette di pulire quando è coperta tutta l'aria ma quando si scarica la batteria. Questo potrebbe essere un difetto tra virgolette per chi lo utilizza mentre è a casa come per esempio nel mio caso. Sentire il robot che per oltre tre ore continua a girare a ravanare all'interno del proprio appartamento nonostante l'aria sia stata per la maggior parte coperta diciamo al 98% potrebbe essere un po' fastidioso. Anche perché ti costringe a rimandare tramite applicazione o comando vocale il robot a ricaricarsi. Quindi questo potrebbe essere una delle criticità tra virgolette per l'uso di tutti i giorni. Per quanto riguarda la pulizia beh anche sui tappeti devo dire che si comporta bene. Ovviamente ripeto non avendo nessuna spazzola che vada a trattare le setore del tappeto non vi aspettate una potenza, una pulizia molto profonda anche di un tappeto tradizionale. C'è appunto la cosa positiva che qualsiasi tappeto a pelo corto o a pelo lungo non andrà a bloccare il robot e comunque continuerà nella sua azione pulente senza grosse difficoltà. La ricarica impiega circa 3-4 ore dallo 0% al 100%. E' un robot che ha anche i vari sensori anticadute, ce ne sono ben 3 posti qui lateralmente che funzionano molto bene. L'ho usato al piano di sopra con le scale molto vicine e non è ovviamente caduto, non si è danneggiato. Un robot aspirapolvere molto particolare, molto compatto, molto carino che appunto per il prezzo che ha e per le funzioni che ha potrei consigliare a chi non ha particolari esigenze. E' inutile se avete un appartamento da 60, 70, 80 metri quadrati, molto semplice e anche discretamente ordinato andare ad ordinare un top di gamma da 600, 700, 800 euro. E' completamente sprecato e alla fine il risultato sarà molto simile ad un aspirapolvere robot entry level ma comunque moderno come questo Elefante F1. In particolar modo se avete animali vi consiglio di valutarlo se avete questo budget proprio perché l'assenza di spazzola centrale è un vero grosso vantaggio nell'uso di tutti i giorni. In tutti gli altri casi sicuramente le alternative non mancano. I vari Pro Scenic 850, i vari Ecovacs 2 Pro, insomma ce ne sono davvero tantissimi che riescono a fare un lavoro molto simile. Questo qui è da valutare sicuramente per la compattezza anche perché davvero lo mettete in un angolino nascosto e dato anche il colore nero praticamente non si vede. Quindi anche in un appartamento piccolo non è una cosa vistosa che attira l'attenzione ma potete nasconderlo come qualsiasi elettrodomestico. E questo sicuramente è un tocco in più. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto in descrizione e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Elefante F1. Per questo video è davvero tutto. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!